Due direttori artistici veramente, come dire, importanti e particolari per questi corsi professionalizzanti che sono ovviamente stati scelti dall'Associazione Iagatini per questi momenti, proprio per parlare di spettacolo, di direzione artistica, di spettacolo dal vivo. C'è un po' di esperienza, mi sa? Beh, l'esperienza c'è e come ho subito detto i ragazzi hanno la fortuna di trovarsi queste strutture e questa professionalità al loro servizio, tra virgolette. Questa cosa è impensabile quando abbiamo iniziato noi, sembra che sto parlando del paleolitico, sto parlando di 25 anni fa, dove era veramente impensabile avere tutto questo, abbiamo cominciato così, per istinto soggettivo. La cosa più carina è che ti dicevano appena tu avanzavi, sai vorrei fare l'artista, ecco è partita la musichetta quando tu dicevi questo, e ti dicevano una cosa più carina, ma che spaccio, ecco questa è la cosa, mentre adesso non vogliamo trasmettere la professionalità ai ragazzi. E quindi è importante, sono importanti questi momenti proprio per riuscire a trasmettere la voglia di fare, perché anche da questa regione, anche da questa nostra città, in questo caso siamo a Marina di Gioiosa Ionica, però si può fare, si può partire anche da qui, da giù, dalla parte più bassa della Calabria, nascono dei grandi artisti, quali appunto Miseferi e Battagli in questo caso. Ma perché no, ma Battagli a Miseferi sono soltanto due artisti che si occupano di spettacoli, di cabaret, di teatro, ma tanti altri artisti calabresi, pittori, sceneggiatori, registi, musicisti, per cui non dobbiamo neanche pensare che da questa terra non possono nascere altri artisti, ci sono sempre stati e altri ne verranno, senza ombra di dubbio. Per cui, magari sono proprio in questa sala, è una cosa strana, è normale che da questa terra vengano fuori degli artisti. Con l'ausilio di queste strutture, di questi corsi che sono di approfondimento, con i quali avendo il contatto con gli artisti che come noi lo fanno per professione, insomma possono, come dire, possono nutrirsi della nostra esperienza. Quando vennero i greci in questa terra, poi si dice ci hanno colonizzato, sono venuti sapendo che questa era una bella terra, nasce la Magna Grecia, ma non portarono gli artisti dalla Grecia, molti li trovarono già qui, cioè li aiutarono, li plasmarono, gli diedero altri insegnamenti, ma nella natura già c'era l'arte.